Igor Ezechiele non si trova la paura fra la gente che vive ad Argente Molinella sale. Il quarto giorno di ricerca, da parte delle squadre speciali dei carabinieri, ancora non ha portato alla cattura del fuggitivo Igor, che oramai ad Argente tutti chiamano Igor il Marine. Dove sia il killer di Budre di Porto Maggiore ancora non è dato sapere, mentre invece quello che è certo è la zona dove cercare, anche con i droni. Valli di Campotto, oasi di Valle Santa, qui però alle mie spalle, verso il fiume Sillero. Questa mattina ci sono stati ulteriori controlli per cercare Norberto Fer, alias Igor Vaklavic. Questa mattina intanto un contadino locale ha denunciato la scomparsa di una piccola imbarcazione, una specie di zattera che potrebbe anche essere servita al killer per fuggire. Gli stessi cani molecolari perderebbero le tracce di Igor al ridosso dell'acqua dei fiumi e dei canali che sono presenti in zona. E proprio i fiumi a questo punto potrebbero essere diventati una via di fuga per Igor il Marine. I fiumi di quella zona, per motivi di irrigazione in questo periodo, hanno il livello d'acqua molto basso. Quell'aria infatti da anni è gestita e ben tenuta anche per motivi turistici dal Consorzio di Bonifica Renana, che gestisce tutto il bacino idrico della bassa bolognese all'Argentano. Il fenomeno dell'acqua bassa nei fiumi infatti lo spiega molto bene un esperto del luogo, il dipendente dello stesso Consorzio, Sergio Stignani. Stignani conosce a Menadito l'oasi di Campotto per motivi di lavoro, ma è anche un appassionato di natura e di verde, tanto che con la famiglia ha deciso di vivere proprio nelle valli. Oggi quel territorio tuttavia è la zona rossa dove si concentrano le forze per cacciare Igor il Marine. Sì, sicuramente si possono attraversare. Direi che anche Reno nella gran parte del suo percorso a livello di Argenta ha un livello talmente basso che è possibile attraversarlo al massimo andando giù fino alla vita, per dire. Idice e Sillaro sono nelle stesse condizioni. Più difficile insomma è attraversare invece le valli dell'oasi di Campotto, così come i canali di Bonifica. Naturalmente il Consorzio di Bonifica in questo periodo ha il problema di fornire acqua per irrigazione, quindi noi abbiamo i livelli tutti abbastanza alti dei nostri canali proprio per fornire l'irrigazione agli agricoltori del territorio e quindi quelli bisogna attraversarli a nuoto. Per Igor il Marine insomma attraversare le valli e i canali di Bonifica, se non usa un'imbarcazione, sarebbe un po' come camminare sulle sabbie mobili. Non proprio come le sabbie mobili, non è così terrificante la cosa, però insomma sicuramente c'è uno strato di melma che rischia di essere più difficoltoso da attraversare perché l'acqua qui è ferma. Oggi intanto a Budrio la moglie del tabaccaio freddato sabato 1 aprile, Davide Fabri, 54 anni, ha riaperto il negozio. Lo devo fare per lui, ha dichiarato ai numerosi media presenti al momento dell'apertura.